Uno dei locali più recensiti di Bari Ma sarà davvero buono, scopriamolo Fidati, non hai idea di cosa ho mangiato Preparati perché nel video ti dico anche quanto ho speso Inizio agile con queste super pappardelle con salsiccia Goduria, sono proprio buone, bene cremose Buonissime, voto 8 e mezzo Talmente buone che il mio amico Matteo me ne stava pure fregando Buona eh, ma gravi solo ancora di più Eh sì grazie, tanto ho pagato io e tra poco ti dico quanto Poi senza paura mi sono preso una mega pizza fritta con una marea di ricotta, una pioggia di salame dolce e una manciata di provola Chiudiamo, buttiamo a friggere e questa è la meraviglia finale Superfilante e porcosissima, voto 9 La gran mangiatore il quale solo continuo con una super pizza con le polpetta a ragù Questa è da orgasmo, 10 su 10, la mia pizza preferita nassun A sgrassare ovviamente tirami su obbligatorio ma in tutto ciò quanto ho speso Mi trovo da mozzarella e basilico a Bari e il conto finale è di soli 32,50 euro Ho mangiato un voto